Buonasera e ben ritrovati. Questa settimana abbiamo ricevuto molte richieste di consiglio su come comportarsi quando in condominio si ha un vicino molto rumoroso. Sentiamo l'avvocato Bortolotti, cosa ci consiglia? Parliamo in questa occasione di una problematica di frequentissima presentazione nella vita condominiale. Sarà infatti capitato a tantissimi di avere il problema di essere accanto ad un vicino rumoroso, anche molto rumoroso e quindi di conseguenza molesto. È anche in questo caso una situazione non facilmente risolvibile dal punto di vista giuridico. Il perché, presto detto, in primo luogo è difficile provare l'effettiva sussistenza di una situazione di questo tipo. Infatti andando con ordine possiamo dire che quando noi abbiamo a che fare con una situazione nella quale i rumori che provengono da l'appartamento adiacente al nostro, oppure gli odori, oppure anche le esalazioni o i fumi, perché la disciplina giuridica accomuna tutti questi tipi di molestie nella stessa fattispecie, forse la cosa più intelligente da fare è cercare una soluzione in via bonaria e conciliativa, magari coinvolgendo anche l'amministratore di condominio, perché nel caso in cui si decidesse, questa è l'esperienza anche un po' nostra di tutti i giorni, nostra come studio legale, se si decidesse di affrontare subito il trasgressore, il colpevole a uso duro, si rischierebbe di esacerbare gli animi e di allontanare ulteriormente una possibile soluzione, che invece con il normale buonsenso in genere può essere ritrovata. Però nella peggiore delle ipotesi, nel caso in cui i rumori, parliamo dei rumori perché è la fattispecie diciamo più frequente, diventassero talmente molesti da non permetterci più di condurre una vita serena, di godere serenamente del nostro immobile, abbiamo alcune soluzioni giuridiche non facilissime però che possono essere percorse. La prima è quella di interpellare l'amministratore di condominio perché al 99% il nostro regolamento di condominio prevederà dei divieti, delle sanzioni in questa materia per i trasgressori, quindi se noi abbiamo la possibilità di facilmente controllare con l'amministratore ciò che prevede il regolamento di condominio, scopriremo che il trasgressore, cioè colui che fa molto rumore, può essere sanzionato con un massimo anche di 800 Euro, se recidivo, per tutti gli episodi di rumore molesto fatti a nostro carico, rimane in questo caso ed è facilmente comprensibile ed è per questo che parlavo di difficoltà all'inizio, rimane il problema di provare quanto noi stiamo dicendo, perché è chiaro che pur non essendo in un'aula di tribunale, però io che faccio rumore, che vengo accusato dal mio vicino di non lasciarlo dormire, posso tranquillamente dire che tutto questo non è vero e che lui ce l'ha con me, quindi la soluzione di buon senso è auspicabile e va sempre ricercata, nel caso in cui tutto questo non fosse possibile, non bastassero le sanzioni, la nostra strada residua è quella giudiziale, quella giudiziale può essere preceduta da una chiamata all'autorità di polizia competente, che in questo caso è la polizia locale, che ha l'onere di venire a controllare se quanto noi stiamo dicendo è vero, a cercare di comporre la lite e a fare i dovuti accertamenti. L'autorità giudiziaria che invece è competente per decidere su queste problematiche per accertare se esiste veramente questo tipo di molestia è il giudice di pace. Il giudice di pace avrà il compito di valutare se noi riusciamo a provare in maniera esaustiva e analitica che il nostro vicino ci molesta con rumori oltre alla tollerabilità, produce delle emissioni di odore, di fumi, di esalazioni che ci rendono la vita impossibile e quindi va sanzionato e gli va ordinato di cessare da questa condotta. Come voi potete capire non è facilissimo come risultato giuridico, ma è l'unica strada che il diritto attualmente che l'ordinamento italiano prevede per poter cercare di risolvere questa situazione. Un ultimo aspetto riguarda la possibilità nel caso di estrema urgenza, nel caso noi possiamo dimostrare anche un grosso problema di salute legato a questa condotta del nostro vicino, è il caso in cui noi possiamo utilizzare il procedimento di urgenza davanti al Tribunale, non più giudice di pace. È ovvio ed è evidente che in tutti questi casi sia assolutamente necessaria la competenza tecnica di un legale per poter prendere la decisione più opportuna e scegliere il procedimento più opportuno per cercare di risolvere questo non facile problema. Federico non sa come comportarsi nei confronti del suo datore di lavoro, che a suo dire utilizza troppe volte comunicare attraverso raccomandate. Quando ritiene inutile la comunicazione scritta, può rifiutarsi di ritirarla? Avvocato Pollastro, ci dica cosa si può e non si può fare. Buongiorno, questa è una bella domanda sulla quale si innestono anche delle leggende metropolitane. se chiunque, un datore di lavoro nel nostro caso non potrebbe essere chiunque, mi consegna una lettera, io devo firmarla, devo riceverla, io posso anche rifiutarmi, però attenzione, forse sapere una cosa importante, se io in una lettera che ricevo, nella copia che rimane al datore di lavoro nel nostro casistica, ma potrebbe essere anche al proprietario di casa, al mio vicino di casa o quant'altro, io scrivo le due paroline per ricevuta, non vuole assolutamente dire che io sono d'accordo con quello che c'è scritto in quella lettera. Quindi, quando è sempre meglio avere chiaro che cosa dice quello che potrebbe essere anche un mio avversario, per cui se il datore di lavoro mi manda una lettera, mi dice io ti mando una lettera di licenziamento o una lettera di sanzione disciplinare, ah, io non la voglio ritirare a nulla, ma cosa vuol dire non vuoi ritirare a nulla? Ritirala, però scrivi per ricevuta, per ricevuta vuol dire che ho ricevuto quella lettera, ma non che necessariamente sono d'accordo con quello che c'è scritto sopra e quindi vale per le sanzioni disciplinari, licenziamenti, trasferimenti, sulle ferie, quando vengono date le ferie o non date le ferie, qualsiasi comunicazione. se il datore di lavoro ha tentato di consegnare una lettera e non viene ricevuta dal lavoratore, è chiaro che il datore di lavoro la spedisce a casa, anche qui il lavoratore dice, ah, io sono bravissimo, non ritiro nulla, anche qui attenzione. Se il postino arriva a casa e verifica che quella persona abita effettivamente lì, c'è la casella, la postale, vi discorrendo, e lascia l'avviso di andare a ritirare in posta una raccomandata, la raccomandata viene data per consegnata, certo al decimo giorno successivo, ma la raccomandata ha esito positivo, il fatto che io non la ritiri, questo è un atteggiamento assolutamente sbagliato. Cosa vuol dire non la ritiro? Se io ricevo una raccomandata e poi non la apro, la legge dice che si presume è conosciuto il documento, la manifestazione volontà, il documento che viene, la raccomandata che viene mandata a una persona, quando giunge alla sua residenza e quindi se io ho ricevuto una raccomandata, anche se non la apro, è come se io l'avessi aperta e letta. Per cui il consiglio che do assolutamente è, primo, ritirare le cose, magari firmando per ricevuta, se non c'è stata la consegna diretta, andare a ritirarla assolutamente in posta e rapidamente, anche lì è una lettera per ricevuta, ma sapere anche questa cosa opposta, che quando uno manda una raccomandata, anche se l'altra parte non riceve questa comunicazione, il fatto che sia arrivata al suo domicilio vale come consegnata. E qui dico un'ultima cosa, le dico assolutamente evitare, assolutamente, questo sono dovuti i giovani, l'utilizzo di strumenti che non diano certezza e garanzia di ricevuta, per cui un'impugnazione di licenziamento non lo si può fare con un SMS, non lo si può fare con un messaggio su WhatsApp, non si può fare con strumenti che non diano nessuna garanzia di ricevuta, attenzione, neppure il fax, neppure il fax, perché il fax? Ma come? C'è scritto ok, è ok, ma ok la mette la mia macchina, con una data che ho messo io impostato sulla mia macchina, non ho un ok dalla macchina del destinatario, ho una macchina della mia che dichiara che quel documento è andato. Gli unici due strumenti, a parte le notifiche giudiziarie, ma i miei due strumenti che danno assoluta certezza sono le raccomandate con ricevuta di ritorno e o eventualmente la posta certificata che intercorre tra un soggetto che ha una posta certificata e un destinatario che ha una posta certificata, la cosiddetta PEC, se no invito tutti a usare la raccomandata, la raccomandata con ricevuta di ritorno, evitare assolutamente strumenti che siano utili per una comunicazione molto rapida, ma la mail, l'SMS, Whatsapp e quant'altro non danno alcuna certificazione e quindi un domani che ci fosse il dubbio, io questa comunicazione non l'ho mai ricevuta, noi non saremmo in grado di provare assolutamente che il documento che noi vogliamo inviare, la manifestazione di volontà che vogliamo inviare, fosse effettivamente partita e arrivata al destinatario. Grazie. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, speriamo di avervi aiutato a comprendere alcuni aspetti giuridici di due mondi così complessi. Vi ricordiamo la nostra mail avvocati rispondono chiocciolailcomizio.it. Ci vediamo martedì prossimo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.